Siamo con Alessandro Gionta, portiere del Lido e Pirata Calcio a Cinque. Alessandro, una stagione ottima per voi, infatti nonostante siete una matricola del Calcio a Cinque provinciale, avete ottenuto un ottimo secondo posto in campionato. Ora però ci sono i play-off in queste gare ad eliminazione diretta. Sappiamo benissimo che non si può sbagliare. Affronterete comunque i quarti di finale in casa sul vostro campo contro l'Arena Cicerone. Presenteci un po' sia questa partita che il momento che state vivendo. Innanzitutto noi abbiamo ottenuto fino adesso un ottimo risultato sopra le aspettative. Abbiamo iniziato dalle cose semplici. Quando sono arrivato a dicembre non avevamo questo tipo di gioco. Il mister ha fatto un lavoro partendo proprio dalle basi. Piano piano siamo diventati una squadra. Per quanto riguarda i play-off, per quanto possiamo arrivare secondi, primi o terzi, i play-off sono tutte partite secche. Bisogna affrontarle con lo stesso spirito tutte quante, dai quarti alla semifinale e alla finale. Perché un passo falso non ti permette più di recuperare. Ecco, dopo una bellissima serie positiva di dieci vittorie consecutive avete avuto una leggera flessione circa un mese e mezzo fa, però poi avete concluso di nuovo molto bene l'annata. Quindi arrivate anche, secondo te, abbastanza bene a questi play-off in relazione anche all'avversario che affronterete, un'Arena Cicerone che comunque da quando c'è Massimiliano Balzano alla guida ha fatto molto bene. Che ne pensi? Sì, noi abbiamo fatto ultimamente una partita, abbiamo fatto una partita di ritorno lì a Gaeta, con la genna di Cicerone ci hanno messo in difficoltà. Anche se abbiamo vinto poi 5-2, comunque la partita è stata sempre in bilico sul 3-2. Dobbiamo entrare con la convinzione di essere più forti, perché è inutile nascondere che siamo più forti. Bisogna entrare per chiudere la partita in modo determinante subito. Ecco, ma voi pensate già più avanti, infatti ricordiamolo che giocherete l'eventuale semifinale in casa, oppure l'idea di Mister Padula e anche la vostra è quella di pensare step by step, partita dopo partita, però dammi una risposta sincera. Sì, è una risposta sincera. Io ho detto, io sono convinto che siamo più forti del nostro prossimo avversario. Però se non entriamo con la mentalità giusta, pur vincendo ma sbagliando, facendo delle sciocchezze, dell'ingenuità, prendendo dei cartellini di troppo che si andrebbero ad accumulare poi nel finale di campionato, potrebbe essere una cosa negativa per noi. Noi dobbiamo entrare e chiudere la partita subito. Ecco, un'ultima domanda a Bruciapelo. Invece l'obiettivo, dove vuole arrivare Lido e il Pirati in questi play-off? L'obiettivo è la finale oppure vincerli? Qual è il reale obiettivo della vostra squadra? L'obiettivo è ormai ci siamo e, come si dice, balliamo. Il nostro obiettivo è salire e quindi vincere i play-off, arrivare in finale e vincere. Però ragionando sempre, come hai detto tu prima, step by step. Va benissimo. Grazie Alessandro e in bocca al luo per i play-off. Grazie, grazie a voi.